7 e 24 minuti lunedì 4 dicembre il lunedì è il giorno in cui di solito qualcuno ci augura un buon lavoro e quel qualcuno è qui che studia con noi invece quest'oggi buongiorno Filippo Coletti buongiorno ragazzi che bella mattinata fredda ma calda qui in questo studio bellissimo allora adesso poi parliamo bene con Filippo e capiamo bene che cosa conteremo perché poi abbiamo un libro che è stato presentato pochi giorni fa quindi dobbiamo raccontarla bene perché poi c'è di mezzo l'intelligenza artificiale caro Mio Masir di cui parliamo anche spesso di cui parliamo spesso la leadership di cui tu non sai neanche cosa sia di cara infatti sa neanche come si scrive il lavoro comunque le buone pratiche anche e anche un po insomma si può imparare perché è un libro in cui si impara qualcosa giusto Filippo facciamo uno spoiler di due secondi velocissimo su che cosa possiamo imparare alla fine della lettura di questo libro ragazzi siamo entrati in una nuova era l'era dell'intelligenza artificiale insieme la scopriremo qui a Milano all news e allora lo facciamo dopo dopo ancora una canzone di Sanremo giusto perché mi dicevi caro Masiri che anche analisa va a Sanremo giusto anche analisa sarà Sanremo lo segui Filippo tu Sanremo da sempre io ho fatto chitarra e composizione nel conservatorio e i miei allunni alla scuola media perché il mio primo lavoro era insegnare alla scuola media appunto venivano addestrati ad ascoltare Sanremo pensa che i genitori mi dicevano ma no no professore non può far ascoltare Sanremo invece no Sanremo va sentito va ascoltato appunto perché la musica bella la musica leggera insomma ci accompagna e così come facciamo tutti i giorni anche qui in radio ascoltiamo 7 34 minuti ritorniamo qui su cristal radio con good morning Milano con Filippo Poletti top voice di linkedin ancora buongiorno Filippo buongiorno ragazzi buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando eh siamo qua siamo qua perché venerdì hai presentato un nuovo libro un nuovo libro smart leadership canvas allora eh prima ci hai raccontato un po' la la finalità un po' siamo all'inizio di una nuova era quella dell'intelligenza artificiale questo libro è composto da 20 storie giusto da 20 interviste da 20 incontri ci vuoi raccontare un po' chi è incontrato e perché li hai incontrati allora questo libro nasce per fare la somma vedete siamo ai tempi dell'intelligenza artificiale e per essere leader oggi bisogna essere dei libri leader come dico io ad ampio spettro ad ampio range per l'altro c'è un bellissimo libro anche su questo no sulle competenze ad ampio range si dice che oggi i grandi manager chi deve affrontare grandi sfide deve avere una visione appunto olistico divisione insieme insomma da qui l'idea di fare un libro eh unendo diverse competenze quindi ci sono due autori ci sono io che sono un giornalista e c'è appunto un economista il professor alberto ferrari si insegna leadership all'università di torino e poi ci sono l'hai detto bene assieme alla teoria siamo una parte quantitativa insomma di servi di di diciamo di sondaggi come si dice c'è una parte qualitativa ossia di racconti e allora siamo andati per in italia a scoprire tanti tanti leader sì ma venti leader cioè mica piccolini hai trovati quelli che fanno veramente quel che fanno dai man come si dice a milano no cioè fanno veramente differenza questi venti leader ricordacene qualcuno ma allora allora da luca barilla vicepresidente di barilla alla dottoressa chiesi vicepresidente di chiesi la presidente zucchetti di zucchetti un impero lo sappiamo se io di microsoft di google di simens di limiti corrado passera insomma tanti tanti altri tanti vicepresidenti di confindustria insomma l'idea era di andare a sentire vedete si fa un libro per incontrare io dico sempre che scrivo libri per incontrare le persone sono un raccontatore di storie quindi vado in cerca delle persone per far che cosa per imparare da loro non è un caso che però esca adesso questo libro perché un anno dopo che cosa è successo il 30 novembre 2022 diciamo un anno dopo una grande rivoluzione ricordate c'è gpt allora diamo due numeri così capiamo di che cosa stiamo parlando c'è gpt in cinque giorni amici di milano all news fece 5 milioni di iscritti in tre mesi ha fatto 100 milioni di iscritti facciamo due paragoni per avere 100 milioni sui cellulari mobili ci sono voluti 16 anni per avere 7 milioni sulla rete internet ci sono voluti sette anni per avere 4,5 milioni su facebook ci sono voluti appunto quattro anni capite che è stata una grande come dire c'è stato un come dire una una grande adesione a che la rivoluzione fosse lì era proprio già da questo capiva che era una rivoluzione sì una cosa interessante io sono andato quando era giovedì ci siamo visti il grande fabio mi ha fatto l'onore di essere presente l'abbiamo presentato da max di essere lì in platea grazie grazie fabio ma quello che mi ha colpito è che molti dicono ragazzi l'intelligenza artificiale non è una novità c'è sempre stata le aziende già la usavano ma in realtà la rivoluzione è stata proprio quella di renderla a tutti no giusto eh sì avete centrato il punto vedete la potenza di calcolo non è una cosa nuova ma la potenza di calcolo messa a disposizione di tutti è una vera novità e attenzione ci siamo trovati questa 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 cosa stratosferica senza le istruzioni d'uso e allora dobbiamo imparare un po tutti cioè usiamo per esempio c'è gpt facciamo un esempio come si usa google no amici no amici di milano news non è google dobbiamo dialogare come se fosse un collega e più dialogamo con lui e più lui ci darà delle risposte ecco infatti cosa ho fatto ieri sera sono andato a fare una ricerca su c'è gpt sbagliando giustamente ho detto ecco poi dopo ci ho pensato ma sei un pirla te l'ha detto anche no no bisogna bisogna dialogare dialogare e fare imparare l'intelligenza artificiale più noi diamo informazione più lui ci restituirà appunto degli spunti io ho visto anche per esempio la nuova suite di microsoft ragazzi è una roba strabiliante cioè immaginatevi facciamo un esempio pratico così i nostri amici che stanno ascoltando capiscono outlook implementato con un copilota con l'intelligenza artificiale ti scrive le email col tuo stesso tono di voce poi scherziamo un po ma è la verità te li scrivi anche in poesia allora hai devi mandare a quel paese un capo beh insomma può capitare lo scrivi un bel sonetto e così magari diventa tutto più dolce però è la verità ti può scrivere anche in rima anche in poesia no io ricordo sempre che sul fatto dell'intelligenza artificiale consiglio sempre il libro di arari che è veramente illuminante 21 lezioni per il ventunesimo secolo si apre con l'intelligenza artificiale incredibile si apre proprio con parla riflettendo sull'intelligenza artificiale e su queste nuove sfide anzi lui cita per esempio una cosa molto bella dice del della famosa sfida tra questo super computer e appunto casparov no vinse super computer però lui dice anche a rari dice in questo mondo i giocatori di scacchi non sono venuti meno c'è voglio dire c'è stata un come dire abbiamo dimostrato che la macchina può superare l'uomo insomma giocare a scacchi ci piace ancora e benvengano gli scacchi la cosa interessante è che appunto questa tecnologia che c'è entrata nelle nostre vite è entrata anche nelle vite delle aziende dei leader di queste aziende che devono imparare a rimanere o essere ancora sempre più leader senza farsi sopraffare appunto da questa tecnologia è un po questo anche il tema no del del libro giusto e si devono imparare a governare devono imparare a guidare l'azienda assieme all'intelligenza artificiale ma questo ci offre delle delle grandi opportunità allora anche qui un numero sapete da cronista mi piacciono i numeri l'adozione dell'intelligenza artificiale porterà a un incremento di produttività stimata in più 18 per cento di p siamo in lombardia cosa vuol dire 300 miliardi di euro cosa vuol dire quasi il p della lombardia attenzione perché questo va detto a parità di lavoratori perché noi non ci stiamo a lasciare a casa le persone non ci stiamo proprio per cui a parità di lavoratori ci sarà una maggiore produttività insomma se possiamo fare le slide molto più come dire velocemente se possiamo scrivere le email molto più velocemente saremo più produttivi vi faccio un esempio pratico ibm cosa ha fatto ibm ha appunto implementato questo sistema di chat bot per wind allora oggi wind gestisce il 60 per cento delle relazioni con i clienti attraverso l'intelligenza artificiale cosa vuol dire che il 40 per cento di tutte le relazioni sono affidate alle persone cioè diciamo l'interazione a valore aggiunto viene dato alle persone per cui automatizziamo quello che c'è da automatizzare si può automatizzare riserviamo alle persone dei compiti più elevati e capito quindi devo trovare magari un chat bot che ti sostituisce la mattina così almeno no perché tu porti il valore aggiunto giustamente come dice come dice quindi stai tranquillo non ti posso sostituire con l'intelligenza artificiale magari però ci potrebbe fare la rassegna stampa più velocemente il doppio delle notizie chiediamo tutte le mattine qui sì senza sostituire la rassegna lavori t è quella lì su una dina no c'è uno che l'ha fatto i giorni dal 5 maggio del 2017 quella insostituibile allora ne parliamo dopo anzi così vediamo un po che cosa magari ci dà qualche intervivo su cosa questa settimana magari racconterà nella tua rassegna lavoro no ok late night talking le chiacchiere di tarda notte invece questa mattina ti piace che traduco sempre invece questa mattina sono le chiacchiere di presto mattina di mattina presto di mattina presto con appunto filippo poletti che di solito trovate in collegamento intorno a quest'ora di solito parte il tuo contributo filippo invece questa mattina ti abbiamo fatto fare una sveglia un po prima ma guarda io mi sveglio sempre presto devo dire mi sveglio presto e vado sempre a fare questa passeggiata veloce questa corsetta veloce infatti stamattina mi sono svegliato alle 4 sono andato a passeggiare e vi dirò la notizia è che a sud di milana sono andato milanese non c'era la brina come mai qui a san siro invece le macchine hanno i vetri ghiacciati come mai soffia il vento dell'ovest non so non so non so come vai a san siro però si inizia al secondo che questa mattina me lo dice perché anche il 100% della popolazione milanese dice le mie statistiche fatte un po così quando chiediamo le cose a Irene della regia che è l'unica l'unica persona che abbiamo qui in studio la cosa di cui stiamo parlando è l'intelligenza artificiale ma non è proprio quello perché poi o diciamoci la verità chiunque parla di intelligenza artificiale senza sapere di cosa si parla no diciamoci dai invece Filippo l'ha studiata si è fatto anche aiutare diciamo ha avuto dei compagni di viaggio davvero interessanti qui al cliente l'altra vabbè Alberto Ferraris che è il tuo professore un professore giovanissimo scoperto eh sì dell'87 di fatti gli ho detto guarda sei sei come Mark Zuckerberg quasi come e lui mi fa beh c'è qualche differenza però va bene anzi bravissimo tra venti lo sento parlare ti spiega le cose in maniera vorrei essere un suo studente non so come dire ok lui lavora un difetto è troppo alto io sono piccolo e cioè come fa uno 71 a stare uno vicino a 1 e 95 cioè non gira non gira non gira lo dice a noi c'è qui Masieri che è un gigante in confronto a me quando è seduto poi abbiamo abbiamo anche Alessandro Zollo che ha collaborato no great place to work great place to work sapete questa azienda che appunto fa le serve interne e fa le classifiche delle migliori aziende no dove dove lavorare qual è l'azienda più bella dove lavorare appunto great place ha una visione d'insieme in Italia beh great place to work Italia poi c'è great place to work in tanti altri paesi insomma è mondiale ormai la classifica è divisa è nata negli Stati Uniti poi adesso insomma c'è anche la parte italiana dicevamo che insomma essere leader al tempo dell'intelligenza artificiale non è mica cosa semplice in questo libro c'è anche un metodo per poter imparare e soprattutto anche proprio per testare se si è imparato bene giusto ma allora c'è un test di autovalutazione c'è il test canvas potremmo un po' tradurlo con una parola così più comprensibile che test il business model canvas non l'abbiamo inventato noi l'hanno inventato due studiosi che si chiamano uno svizzero uno belga appunto Osterwalder e Pignore noi che cosa abbiamo fatto l'abbiamo trasporto o meglio l'abbiamo cercato di adattare i tempi dell'intelligenza artificiale a quanto ci risulta nell'ambito dell'iteria non c'è oggi un canvas un test di autovalutazione per i leader è quello che abbiamo provato a fare noi insomma vedete si parla tanto di intelligenza artificiale ecco noi quello che diamo oltre a tanti contributi a tante idee diamo anche uno strumento pratico insomma caro amico caro leader cosa devi fare oggi per guidare un'azienda ecco segui il il nostro canvas il nostro test fatti una bella autovalutazione vedi se sei un vero smart leader oppure no. Filippo è un bravissimo giornalista ma anche un venditore pazzesco io te lo dico potrebbe vendere il ghiaccio dei schimesi ma soprattutto secondo me il riso ai cinesi ma soprattutto è siccome l'uomo dei trailer ti definirei così perché lui ti va a venire una voglia di leggere sto libro senza dirti nulla che senza spoilerarti niente di quello che c'è scritto dentro. Sei troppo gentile. Ok a differenza di quando tu vuoi vedere al cinema no non so esce il nuovo film da marvel praticamente se tu vedi il trailer hai vissuto il film puoi anche non andare a l'oriente uguale. Quest'uomo che c'ho qui davanti posso dire un bastardello se può dire perché ti dice no sai c'è scritto quella cosa della storia e non te lo dico. Arianna è una storia bellissima e tu adesso non saprai cosa però sa che è bellissima. Arianna è un racconto bellissimo che fa Floriano Masoreo guarda come fa. Floriano Masoreo è l'amministratore gatto di Siemens un ingegnere veramente di grande lucidità e anche generosità mi ha portato a vedere questi uffici di Siemens. Ragazzi ma voi l'avete mai visto un'azienda 100% smart working? Da che anno soprattutto? Dal 2011 bravo bravo Fabio dal 2011 incredibile. Allora mi ha fatto vedere questi spazi bellissimi peraltro dentro c'è una palestra dentro ci sono degli spazi dove trovarsi. Voglio dire dove voglio arrivare al di là degli scherzi. Voglio arrivare a dire che oggi l'ufficio è fatto per incontrarsi. Cioè i compiti diciamo si fanno a casa e invece si trova per darsi i compiti. Insomma vi faccio una provocazione ma voi siete mai stati a scuola? Sì ai Messi. Allora voi vi ricordate i professori che vi davano i compiti? Cioè spiegavano tutta la mattina e poi dicevano tu a casa fai questi compiti. E allora ma perché i lavoratori non possono avere i fare insomma possono possono ricevere i compiti e farli a casa allora ci si trova per darsi i compiti per condividere. Ovviamente vale soprattutto per i colletti bianchi insomma per certi per certi lavori. Sulla presta idraulica a casa faccio un po' fatica a lavorare. Però per quanto riguarda i colletti bianchi insomma ci si trova come a scuola si ragiona si trova la quadra e poi i compiti si fanno a casa dove si vuole insomma come a scuola ragazzi. E peraltro questo lo dice Simone appunto Simone Terreni di Voice Voice. Ma dicevo dicevamo di Masoero no? E Masoero racconta questa storia bellissima di Arianna. Arianna è una ragazza che deve immaginare il proprio futuro e non vi dico chi è ma lo scoprirete leggendo il libro e lui dice ad Arianna fai questo fai l'altro ma soprattutto dice ad Arianna preparati ad essere resiliente. Tu devi studiare per cambiare continuamente. E poi porto un altro esempio di Bebevio insomma ma leggetelo. Leggete lì. Vedi? Vedi? Fa così capito? Ma sul più bello diciamo ma quindi eh te lo vai a leggere. Eh lo vai a leggere. Capito? Eh ma è giusto però lo fa molto bene e questo è il problema. Troppo gentile. Lo fa troppo bene quindi adesso io devo per forza riuscire a mangiarmi tutto il libro nel giro di poco perché poi sennò dopo... Poi ti mando whatsapp e ti interrogo. Anzi te lo faccio mandare dal professore che è professore ordinario. Però ha detto durante la presentazione che non ci sono promosse bocciate. Quindi potete leggere fare l'automotazione. Però i voti ti li dà lo stesso. Non ti bocciano. Io chiedo il 6 politico a sto punto. No perché con il 6 politico non c'è l'impegno. Infatti faccio un appello a questa nostra. No non si può. Ma c'è ancora il 18 politico? No però ho avuto dei professori con il 6 politico. Materie chiaramente magari non di peso però il 6 politico. Il prossimo esame qual è il tuo? Il mio prossimo esame è relazioni di lavoro nel settore pubblico. Eh allora vedi che siamo in tema. E allora devi leggere l'intervista al presidente Stirpe, anzi il vicepresidente Stirpe, vicepresidente di Confindustria che è vicepresidente per le relazioni sindacali. Dove dice una cosa molto semplice. Dice bisogna difendere i lavoratori non i posti di lavoro. Cioè lui dice in questo momento di grande rivoluzione qualcuno potrebbe trovarsi a disagio. L'organizzazione internazionale del lavoro parla del 5% di lavoratori a rischio. 25 milioni di lavoratori italiani, 1,2 milioni di persone insomma che potrebbero avere delle difficoltà a fare il proprio lavoro. E allora Stirpe dice siamo in un periodo di grande trasformazione. Lo Stato deve aiutare le aziende a trasformare i collaboratori, a renderli insomma a fare in modo che acquisiscono nuove competenze. Lui dice, il vicepresidente Stirpe, no alla difesa dei posti di lavoro, sì alla difesa dei lavoratori. E poi ci racconta della leadership dei gol perché lui è anche oltre vicepresidente di Confindustria, Presidente di una grande azienda, grandissima azienda, anche Presidente del Frosinone Calcio che ci ha dato, insomma diciamo così, ci ha dato tre punti. Ci ha dato un bel regalo a Volmina. E quindi insomma in qualche modo siamo pure, diciamo così, grati al Frosinone. In debito adesso. In debito, in debito. E peraltro lo vedrò mercoledì perché assieme a Roma, ecco, chi vive a Roma e vuole venire, a Roma alla delegazione di Regione Lombardia, dietro al Senato, Via del Gesù, faremo questo incontro mercoledì 6 dicembre alle ore 18. Siete tutti invitati. Allora, siamo arrivati alla fine, caro mio Filippo. Dacci le coordinate su come poter fare. Prima di tutto approfondire, ricordiamo tutte le mattine cosa succede su LinkedIn. Anzi, come è che si dice bene? Rassegna lavoriti. Quella è interdibile. Io dico LinkedIn, ma è sbagliato. Come è che si dice? LinkedIn. Ecco, una bestia su questo. E quindi rassegna lavoriti tutte le mattine Filippo Poletti. Sì, e poi ragazzi ho una bellissima notizia a darvi. E anzi, vi chiedo di ospitarmi quando arriverò a questo travato. Perché tra qualche giorno arriverò a 100.000 persone che mi seguono. 100.000 è un numero grosso per LinkedIn rispetto ad altri social. Sembra piccolo. Sono gli ascoltatori che facciamo ogni mattina. Quindi, se Fabio e Lorenzo mi ospitano, lo festeggiamo qua. Magari gli porta anche qualche ospite. Un altro numero incredibile è 3 milioni di impressioni. Oltre 3 milioni. Sì, quello lì. Guarda, LinkedIn è una rete straordinaria. Io ho ricevuto più di quello che ho dato. Però, insomma, qualcosina ho anche dato. Perché tutte le sere studio, tutte le mattine alle 5.30-6 posto qualche cosa. Insomma, cerco di farlo da cronista, da raccontatore di storia. Con grande umiltà. E allora, grazie Filippo, davvero. Grazie mille. Con noi, 3 milioni di impressioni. Sì, 3 milioni di impressioni. E bisogna vendere 3 milioni di copie del libro. Di Smart Leadership Canvas. Editore. Bisogna battere Fabio Volo. Bisogna battere Fabio Volo. Beh, ma insomma, diciamo che con il vostro supporto sicuramente ce la potremo fare. Guerini Next, appunto, diciamo, l'editore di questo bellissimo manuale. Non lo so, stimola la mente. C'è un cervello, un cuore. Insomma, ci sono tante cose. E il cuore c'è anche mia figlia. E mia figlia, sì, sì, sì. Allora, fatemi fare questo spot da papà. Hai 20 secondi, vai. E allora sì, dico che nel cuore c'è anche mia figlia Francesca, una delle mie due figlie, perché lei, come la generazione Z, a cui appartiene, insomma, stanno immaginando il futuro con il cuore e con il cervello. E allora, grazie mille Filippo. Ci sentiamo lunedì prossimo, comunque. Perché tu, lunedì, buon lavoro tutti i lunedì con Filippo Apoletti. Buon lavoro a tutti.